La biologa 26enne, residente ad Abbate Marco, frazione di Montano Antilia, e di ritorno da Cremona, che era ricoverata in isolamento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in seguito ai test del tampone effettuati al Cotugno di Napoli e all'ospedale Spallanzani di Roma, è risultata positiva al coronavirus. La donna è stata trasferita al nosocomio napoletano, dove verrà curata. Una pessima notizia per il Cilento e la Campania, che nella giornata di ieri, ha visto anche la positività di un test effettuato su una donna del casertano. Le istituzioni regionali e gli enti si stanno muovendo per contenere l'epidemia, a partire dal governatore De Luca, che ha annunciato, nella serata di ieri, la chiusura di tutte le scuole della regione Campania, comprese le università, anche se in Campania questo provvedimento era stato già preso da varie amministrazioni. Il provvedimento durerà fino a domenica 1 marzo. Provedimenti anche per i comuni frequentati dalla donna contagiata, Montano Antiglia e Ceraso, in cui sono chiuse scuole e negozi e sono sospese iniziative e manifestazioni di qualunque tipo. C'è timore anche ad Agropoli, dove è dovuto intervenire il sindaco Coppola con un video sui social, invitando a mantenere la calma, smentendo le false voci su un caso di coronavirus in città e aggiornando i cittadini sulla situazione attuale. Intanto, questa mattina il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, è stato convocato dalla prefettura di Salerno e si attendono notizie. Il Cilento e la Campania stanno per attraversare un difficile momento che fino a qualche settimana fa nessuno immaginava fosse possibile.